Recuperare il gap con il settentrione e far crescere insieme l'Italia. Questo è l'obiettivo del Movimento per l'Equità Territoriale di Taranto, nato lo scorso anno, che stamattina ha tenuto una conferenza stampa al Molo Sant'Eligio. Tra le proposte anche quella di sfruttare le risorse del Recovery Fund per incrementare le infrastrutture del mezzogiorno. A coordinare i lavori, il referente del Movimento Giuseppe Capobianco. Le nostre priorità, intanto il Movimento è nato da poco, diciamo è nato il 24 agosto dell'anno scorso. Il circolo a Taranto poi è nato a dicembre e ci siamo dati delle priorità. Le priorità sono cercare di far conoscere la gente o risvegliare i nostri concittadini su ciò che, il perché non riusciamo a raggiungere mai il nord. C'è un divario, c'è un gap tra il nord e il sud che non riusciamo a ridurre. Questo perché? Perché il più delle volte i finanziamenti finiscono sempre al nord, noi non li utilizziamo, oppure se i nostri progetti vengono presentati, il più delle volte vengono accantonati, si aspetta la data della scadenza per non farli partire. E quindi c'è questa specie di, come dire, c'è questa volontà, tra virgolette, dei nostri amici settentrionali di prendere tutto ciò che noi abbiamo. Vino a dire il fondatore, oltre ad essere un giornalista, è anche scrittore di tanti libri di successo, tipo Terroni, Il mondo, l'Italia è finita. Adesso ha fatto l'ultimo best seller, che è Il male del nord, dove spiega tutti i motivi di come l'Italia si è trovata, come il meridione si è trovata in questo modo, qui è in ritardo, un forte ritardo rispetto al nord. E non c'è la volontà politica di aiutarci in fare infrastrutture, scuole, tutto ciò che a noi serve, asili, ferrovie. Noi siamo ancora nella parte dell'Italia, dove c'è Matera, che non ha ancora la ferrovia da 160 anni. Eppure il primo treno è nato giù nel regno delle due Sicilie, a Napoli. Quindi non ci spieghiamo perché siamo stati abbandonati completamente al volere di pochi industriali del nord, che decidono tutto. Il recovery fund, come dice la Comunità Europea, è stato creato, questo fondo, per darlo alle regioni europee che sono in difficoltà. Cioè sono quelle che hanno il maggior bisogno, secondo tre criteri, che sono il numero della popolazione, il tasso di disoccupazione negli ultimi cinque anni e il reddito pro capite. Purtroppo l'allora del sud dell'Italia è una delle regioni più povere rispetto a tutta l'Europa. E applicando questi criteri, noi abbiamo visto che sugli 809 miliardi, 209 miliardi sono effettivamente quelli che spettano all'Italia, ma l'Italia verranno ancora suddivisi in maniera che 146 miliardi saranno destinati all'infrastruttura del sud e 64 miliardi al nord. Ma già vedete come in questo periodo qui i governatori della Lombardia, dell'Emilia, la Confindustria, anche Bonaccini dell'Emilia Romagna, stanno pretendendo questi soldi tutti per loro. Tenendo presente che di questi soldi una buona parte, quasi 60 miliardi, se dovessero essere concessi questi, i soldi ritornano al nord per effetto dell'interdipendenza. Se noi dobbiamo costruire qualsiasi cosa abbiamo bisogno di prodotti che il nord produce con le sue industrie. Di conseguenza questi soldi ritornerebbero di nuovo a loro. L'obiettivo nostro è appunto quello di svegliare i nostri politici, politici meridionali, ad affrontare seriamente questo problema qui e non essere, se vuole, signor sì, dei partiti del nord. Perché i partiti del nord, il partito unico del nord, lo chiamiamo noi, sono il PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, sono tutti, pensano soltanto e esclusivamente ai loro interessi, ai loro benessere, pur facendo addirittura il doppio, il triplo di ferrovie, l'alta velocità che fanno al nord. Da noi ce la sogniamo, non ce la fanno mai. Se voi vedete tutto il sistema ferroviario italiano al nord è ingigantito al 100%, da noi abbiamo due linee ferroviarie, la drattica e la tirrenica. Non ce ne sono più, perché non potenziano le nostre ferrovie? Grazie a tutti.